Rossellini, benvenuto a Livorno, appena firmato, finalmente trovi Livorno come tua squadra, l'hai affrontato ad avversario, che ricordi hai? Livorno è una piazza bellissima, io ci ho giocato contro in Serie B e penso che sia la categoria minima che si merita. Un tifo calorosissimo, veramente una piazza importante, dai, inutile dirlo. Il campionato di Serie C, l'anno scorso hai vinto con la SPAL, segnando ben 17 reti, sei stato uno dei protagonisti assoluti. Che campionato è? Come c'è da affrontarlo? Un campionato sempre insidioso, comunque quelle due o tre squadre forti, attrezzate come te, le trovi sempre, per cui niente è mai facile.